Immaginate di dover progettare un sistema a tre assi per un sistema di carico e scarico macchina o un braccio robotico per un sistema di asservimento o ancora un organo di rotazione per una tavola rotante o un quarto o quinto asse di una macchina di un centro di lavoro. IWIN da molto tempo fornisce una serie di prodotti che vi aiutano a realizzare i vostri progetti di automazione e le vostre macchine. Parliamo di guide, di viti a ricircolo di sfere, cuscinetti ma parliamo anche di azionamenti quindi i motori, i servomotori, i motori lineari, i motori coppia. Ma realizzare dei progetti di automazione richiede in realtà una quantità di lavoro, una quantità di risorse non indifferente. Bisogna iniziare dalla progettazione, dalla gestione delle materie prime, dei componenti che arrivano dai diversi fornitori. Bisogna pensare al test run, all'assemblaggio, all'installazione eccetera. Ecco che da un po' di tempo IWIN ha come missione aiutare i nostri clienti con quello che noi chiamiamo la total solution. Cioè fornire una soluzione complessa già pronta all'utilizzo per sistemi ad assi cartesiani. Potrebbe essere uno, due, tre gradi di libertà o ancora di più. Tavole rotanti, robot antropomorfi, robot più assi. E diciamo che questa total solution è rappresentata molto bene da uno dei nostri prodotti che abbiamo introdotto nel mercato da quest'anno, il nostro robot SCARA. Questo è uno dei modelli che rappresentano la total solution nel senso che è costituito da alcuni dei nostri componenti chiave. La vite scanalata dell'asse Z dello SCARA è un nostro componente IWIN, permette la rotazione e la traslazione sull'asse Z. Ma anche i motori, i servomotori all'interno dello SCARA, i riduttori armonici, i cuscinetti all'interno dei riduttori sono tutti prodotti SCARA. Quindi dalla meccanica, come ho appena detto, all'elettronica, quindi si parla di motori azionamenti e drive, abbiamo un prodotto molto performante con il rapporto qualità-prezzo migliore del mercato. Ovviamente, essendo noi costruttori di questi componenti, possiamo offrire una vastissima gamma di prodotti robotici. Abbiamo in totale, fra tutte le combinazioni di sbraccio dello SCARA, per esempio, una ventina di modelli per ogni applicazione. Parliamo di robot SCARA da 5 kg di carico massimo a 10 kg di carico massimo, con un asse Z che va da 200 a 400, con sbracci che vanno da 400 a 800 mm. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare il nostro know-how per la costruzione di robot wafer, quindi abbiamo dei modelli standard, ma anche dei modelli customizzati di robot wafer, per le applicazioni nei semiconduttori, a uno o due bracci di presa. C'è anche la nostra serie di robot antropomorfi, anche qui divisi a seconda della lunghezza di braccio, fra 7 kg di carico massimo fino a 14 kg di carico massimo. È la nostra nuova generazione introdotta nel mercato da quest'anno, ci sono diverse novità a livello di software e sono dei prodotti molto performanti e pensati per il mercato europeo. Oltre ai robot, come dicevo, abbiamo la possibilità di offrire una vastissima gamma di prodotti come assi lineari già assemblati, già testati per i nostri clienti, a seconda delle varie applicazioni, quindi abbiamo assi a cinghia, assi a vite, assi con motori lineari, assi che si possono combinare a seconda della necessità dell'applicazione. Abbiamo anche le nostre tavole rotanti, che sono la combinazione, un prodotto finito di motore coppia, più cuscinetti, più tutta l'interfaccia di comunicazione con la macchina, magari azionati anche da drive di terze parti, che possono essere integrati in maniera molto semplice all'interno di centri di lavoro. Anche qui abbiamo una serie grandissima, una selezione molto vasta di modelli a seconda della tipologia, a uno, a due gradi libertà, verticali e orizzontali. Inoltre in IWIN Italia abbiamo anche la possibilità di fornire sistemi customizzati a più assi, a seconda direttamente dai requisiti dei nostri clienti. Quindi portiamo via, ci facciamo carico di una bella parte di progettazione, assemblaggio, test, che altrimenti è a carico del cliente. Come dicevo prima, abbiamo la possibilità di fornire i motori e gli azionamenti, parliamo di servomotori, motori lineari, motori coppia. Dall'anno scorso abbiamo introdotto la nuova serie di drive E1 con un design più compatto, con una risoluzione dell'encoder più alta e con delle performance rispetto alla serie precedente molto avanzate. È anche utile utilizzare il nostro drive con i nostri stessi motori e le nostre stesse tavole rotanti. Non si tratta solo però di sistemi di movimentazione. IWIN in questa fiera ha introdotto un nuovo componente per le nostre viti a ricircolo. Si chiama Intelligent Boss Crew, noi la chiamiamo I4.0BS ed è una vita intelligente che ha integrato un sensore ibrido di temperatura e vibrazione. Questo sensore permette di fare delle analisi molto avanzate sullo stato di salute della vite. È collegato a un nostro Edge Computing Module, che è il modulo, la scheda che vedete al centro di questa immagine, che riesce a analizzare in maniera del tutto scollegata dalla cloud lo stato di salute della vite. Come funziona? Abbiamo quattro diverse funzionalità, quattro diverse funzioni per questa vite. Riusciamo a monitorare il precarico, ovvero periodicamente riusciamo a dire se la vite è vicina al momento critico, quindi al suo fine vita. Possiamo andare a fare quindi manutenzione predittiva, cosa che riesce a evitare che ci siano downtime macchina all'interno del centro di lavoro dei nostri clienti. Ovviamente il precarico è una delle caratteristiche principali della vite, quindi una volta che raggiunge il livello critico, quando il precarico non è più presente nella vite, la vite smette di funzionare nella maniera in cui dovrebbe. C'è poi la possibilità di utilizzare il nostro Edge Computing Module, il nostro modulo di vite intelligente, per andare a effettuare la lubrificazione intelligente. Ovvero, utilizzando il nostro expertise, il nostro know-how dovuto al vastissimo uso di viti che facciamo, siamo in grado di andare a analizzare e a trovare il momento ideale per effettuare la lubrificazione di ognuno degli assi del centro di lavoro. Questo vuol dire andare a prevenire alcuni problemi che derivano da una mancanza di lubrificazione dell'asse, ma anche andare a risparmiare su un'eccessiva lubrificazione di quest'asse. Per quanto riguarda la terza funzione, la funzione di monitoraggio della collisione. Grazie a questo sensore integrato, ovviamente posso impostare delle soglie sopra la quale il sensore, il mio modulo Edge Computing, avverte il controllo superiore, il PLC, la macchina, che c'è stato un evento anomalo di collisione. Queste collisioni poi vengono scritte in uno storico all'interno del nostro Edge Computing Modulo che non è cancellabile, quindi non rimarrà per sempre all'interno del nostro modulo. C'è anche l'ultima funzionalità che è la funzionalità di monitoraggio della temperatura. Posso andare a settare delle soglie minime e massime di temperatura, cosicché riesco a monitorare se la mia Vitell non lavora nel range nominale della macchina. Tutte queste funzionalità possono essere utilizzate con un solo Edge Computing Modulo, posso collegare tre viti differenti per il mio centro di lavoro. Questo vuol dire che non avrò mai più dei downtown imprevisti della macchina, non avrò mai più dei fermi macchina che diminuiscono la produzione, ma posso andare a fare manutenzione predittiva all'interno di ognuna degli assi del mio centro di lavoro. Trovate l'intelligent boss crew, i nostri robot, le nostre soluzioni ad assi nel nostro stand al padiglione 1 C28D19. I nostri colleghi saranno molto lieti di mostrarvi le nostre soluzioni e se avete delle richieste siete benvenuti. Grazie. 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 Grazie.